La mia prima imprensione è stata positiva per vedere così tante aziende che sono venute in un momento così difficile, quindi che trasmettevano il bisogno di avere vicino a sé le associazioni. Questo è quello che mi ha perso di percepire. Quello che io mi sento di assicurare loro è sicuramente il massimo impegno che deriva dal fatto che io ho un'impresa, come tutti i nostri associati, è un'impresa che vive tutte le problematiche quotidiane, tutte le problematiche che mordono con la crisi attuale. E quindi siamo sul campo. Sarebbe farsi male da solo non volere impegnarsi per dare veramente un controllo. Poi ripeto, io sento comunque il peso della crisi delle aziende. Durante la fase congressuale, quando contattavamo le aziende, insomma, vivevamo queste realtà e a fianco di realtà positiva c'è anche realtà drammatiche. Quando ci sono realtà drammatiche nelle nostre imprese, esse coinvolgono anche la famiglia degli imprenditori che, come voi sapete, danno tutto alla propria impresa.